Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. Stromboli, ripresa l'attività effusiva, sull'isola resta lo stato di allerta rossa, interdette le spiagge nelle vicinanze della sciara del fuoco. Catania fa i conti con lo smaltimento della cenere vulcanica dopo l'ultima eruzione dell'Etna. I centri di raccolta indicati dal comune, già saturi in poche ore, costretti a interrompere il conferimento. L'inchiesta a vasi comunicanti scuote la sanità siciliana. Secondo il GIP, il professore Tamburino era a conoscenza delle intercettazioni nei suoi confronti. Risulterebbero sospette le sue dimissioni da tutti gli incarichi. Situazione sempre più difficile nelle carceri siciliane. Suicidi e mancanza di investimenti. Insorge il garante dei detenuti contro il decreto del governo. È un blef. In Sicilia parte ufficialmente la stagione dei saldi estivi. Scatta la caccia all'affare, anche se gli sconti sono stati anticipati di qualche settimana dalle promozioni dedicate ai clienti fidelizzati. La Villa Bellina ha inaugurato la nuova stagione del Catania Summer Fest. Tra i prossimi artisti in arrivo due rapper amatissimi dai giovani, Salmo e Nois, sul palco il 12 luglio. Calciomercato, in serie B, il Palermo ha raggiunto l'accordo per il difensore greco Nicolau. In serie C, il Catania pronto a ufficializzare il terzino Anastasio. Karik ha un passo dal Trapani. Ben trovati dunque e ripresa la colata lavica a Stromboli. La protezione civile ha chiesto al Comune di interdire le spiagge nelle vicinanze della sciarra del fuoco. Permane lo stato di allerta rossa. Francesco Triolo. Uno stop di qualche ora e poi è ripresa in tarda mattinata la colata lavica sulla sciarra del fuoco di Stromboli. L'ultimo aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala come la bocca precedentemente posta a 510 metri sopra il livello del mare. Adesso si sia abbassata a 485 metri del fronte della colata e a circa 200 metri dal mare. A questo, inoltre, si aggiunge il distacco di blocchi dal frontelavio che, rotolando verso la linea di costa, raggiungono il mare a Stromboli. Quindi resta alta l'attenzione e il livello d'allerta permane rosso. Questa mattina sono arrivate e sono state stoccate all'Ipari un migliaio di brandine così come previsto dai protocolli di emergenza fatti scattare dalla prefettura di Messina che ha allertato le strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vivo Valenza e Salerno. Durante la riunione del Comitato di Sicurezza di questa mattina la protezione civile ha evidenziato l'opportunità di disciplinare l'accesso alle spiagge più prossime alla sciarra del fuoco e con limitata capacità di rapida evacuazione in caso di allarme e tsunami segnalato dalle sirene. In particolare è stata chiesta al Comune di Liberi di procedere all'interdizione della spiaggia lunga e delle calette nell'area di Piscità, raddoppiata la presenza dei vigili del fuoco nell'isola che stanno utilizzando il geoportale per il monitoraggio cartografico avanzato grazie al supporto dei dati satellitari per garantire una sorveglianza continua e dettagliata. Rimane in vigore l'ordinanza del Sindaco di Pietare, l'approdo dei vaporetti con i turisti giornalieri che ogni giorno arrivano dalle coste siciliane e calabresi. Emergenza cenere vulcanica a Catania, attivati a partire da oggi due centri di raccolta che questa mattina sono stati presi d'assalto. Dopo poche ore infatti tanti cittadini sono stati invitati a tornare con i sacchi lunedì. Intanto la città è ancora sommersa dalla sabbia dell'Etna. Emanuela Corsi. Isola ecologica di Picanello presa d'assalto questa mattina da tanti cittadini che hanno depositato la cenere vulcanica raccolta presso la propria abitazione. La struttura di Via Gianni, già alle 10.30, era satura e molti sono stati invitati a tornare lunedì mattina o a recarsi presso l'altra isola ecologica di Viale Terreno a Trappeto Nord. Tanta la delusione e le lamentele in questo primo giorno di smaltimento a Catania che in molte zone è ancora sommersa dalla cenere. Da lunedì ci saranno due isole ecologiche itineranti, allestite una a Canalicchio su Via Angelo Musco e l'altra invece al Gemellaro, zona Corso Indipendenza. Chiediamo appunto la collaborazione dei cittadini che portano questa sabbia vulcana e che raccolgono nelle proprie proprietà private. Andando in giro per il centro sono tanti i sacchi pieni di cenere davanti alle abitazioni. È stata fatta un'ordinanza del sindaco dove inizialmente non si sapeva la quantità di sabbia che sarebbe caduta e nell'ordinanza c'era specificato di lasciare la sabbia accanto alle proprie abitazioni. Però questa cosa purtroppo non può funzionare perché la sabbia è tanta e chiediamo la collaborazione dei cittadini che la portano alle isole ecologiche. La cenere vulcanica depositata sui marciapiedi infatti potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento. Purtroppo le operazioni di raccolta della sabbia vulcanica saranno molto più lunghe. Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco di Catania Enrico Trantino. La quantità e il cambio di codice di smaltimento rendono più complesse le operazioni, evidenzia il primo cittadino. Pertanto lo smaltimento si protrarrà ancora per giorni. E cambiamo argomento le sospette di missioni dagli incarichi pubblici del professore Tamburino alla luce dell'inchiesta Vasi Comunicanti che ha scosso la sanità siciliana. Per il GIP sapeva delle intercettazioni nei suoi confronti. I nove indagati tra dirigenti medici e fornitori di dispositivi per la cardiochirurgia fanno scena muta davanti al GIP. Roberta Lunghi. È il 17 giugno quando, come un fulmine a ciel sereno, il professor Corrado Tamburino, direttore del Dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Catania e docente di cardiologia all'università, annuncia in una lettera di commiato a colleghi e collaboratori la sua decisione di lasciare. Nelle intercettazioni dell'inchiesta Vasi Comunicanti che ha portato a nove arresti tra i quali quattro dirigenti medici tra Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa, emerge che Tamburino avesse annunciato le sue intenzioni anche al direttore generale del Policlinico di Catania. Per la GIP Giuseppina Montuori questa scelta, a cinque anni dal pensionamento, è dimostrazione del fatto che evidentemente è venuto a conoscenza dell'attività di intercettazione nei suoi confronti. Tamburino, dalle carte dell'inchiesta che ha svelato un sistema di corruzione da parte di dite fornitrici di dispositivi medici per interventi cardiochirurgici con mazzette mascherate in subvenzioni per eventi formativi, sarebbe riuscito a fare acquistare i dispositivi Tavi a un prezzo maggiorato del 20%, con un relativo danno economico al Policlinico Rodolico San Marco per circa un milione di euro. In una conversazione a parlare sarebbero stati Marco Contarini, primario di cardiologia dell'Umberto I di Siracusa, e il palermitano Pietro Sola, anello di congiunzione fra i medici e le aziende che avrebbero discusso del congresso del maggio scorso a Catania e del compenso chiesto per i quattro medici pronti a favorire le ditte interessate. Il prezzo sarebbe stato 10.000 euro ciascuno. Cifra elevata, secondo Rosa Vitale, anche lei ai domiciliari, rappresentante della Presi Farm, ma indiscutibile per il pretenzioso Antonio Micari del Policlinico di Messina. Intanto è stata scena muta da parte di tutti i nove indagati negli interrogatori davanti al GIP, mentre dalla Regione, giunta la richiesta da parte dei dirigenti Iacolino e Require, di una relazione esaustiva e puntuale relativa al percorso di acquisizione dei dispositivi oggetto di indagine, ai direttori generali delle aziende ospedaliere Policlinico Martino di Messina e Rodolico San Marco di Catania e delle ASP di Siracusa e Ragusa. Rapina un supermercato a Palermo con una gamba ingessata e una stampella. L'uomo si è diretto verso una delle casse, armato di coltello, ha minacciato la dipendente dell'Eurospin di Brancaccio. La cassiera gli ha dato i soldi e lui è salito a bordo di un'auto ed è scappato, pare, con un complice. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. In carcere non solo i suicidi, ma anche la mancanza di investimenti fa insorgere il garante dei detenuti di Palermo. Un decreto blef, il recente provvedimento del governo. Giusella Zara. Sono morti dimenticate. Si fa sempre più esplosiva la situazione nelle carceri siciliane, dove ormai i suicidi, i tentativi di suicidio, gli atti di auto-lesionismo sono all'ordine del giorno, dove tutta la pesantezza della situazione si scarica in uno scontro fra il detenuto e l'agente di polizia penitenziaria. Dieci i suicidi nelle carceri siciliane, l'ultima vittima nell'istituto penitenziario di Caltanissetta la scorsa settimana. Non ci sta il garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, che giudica inefficace l'ultimo decreto del governo. I suicidi che in questo momento risultano più alti del doppio rispetto allo scorso anno. Nulla di tutto questo. Per la polizia penitenziaria credo che sia stata proprio una beffa, perché gridare alla vittoria per mille unità in più in due anni credo che non serva nemmeno a coprire il turnover. Si grida vittoria per aver messo a disposizione due videotelefonati in più, ma questo già alcuni direttori, avendo capito che la situazione è molto pesante, già avevano provveduto. Nessun investimento poi è previsto sulle figure professionali di psicologi, assistenti sociali, educatori e mediatori culturali. Sulla sanità, sulle strutture alternative al carcere, c'è silenzio. In Italia 52 detenuti morti quest'anno e 5 i suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria. Il Codacons ha presentato un esposto ai carabinieri per chiedere di sospendere i cantieri presenti sulla A18 tra Acireale e Giarre, perché a causa dei lavori di manutenzione sul guardrail si creano enormi disagi per gli automobilisti e i lavoratori presenti non indossano protezioni di sicurezza. Il Codacons rileva che nonostante i lavori riguardino poco più di un chilometro di autostrada, le code possono durare fino a un'ora. 111 migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi dalla ONG Humanity e trasportati a Lampedusa con una moto vedetta della Guardia Costiera. Tre donne incinte, delle 24 presenti, sono state portate al poliambulatorio per controlli ed esami sanitari. I migranti, fra cui quattro minori, hanno riferito di essere originari di Etiopia, Eritrea, Gambia, Ghana, Mali, Nigeria, Sudan e Somalia, ed aver pagato 5.000 dollari per la traversata. Nei prossimi giorni è allicata una nave cisterna della Marina Militaria per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese, le più provate dalla siccità. A Gela intanto si lavora per aumentare la portata della distribuzione idrica attraverso l'apertura di due nuovi pozzi. Gerry Italia. In Sicilia si cercano soluzioni per arginare la crisi idrica che da settimane ormai sta mettendo in ginocchio l'isola. Nei prossimi giorni allicata proderà la Ticino. La nave cisterna della Marina Militaria è già stata individuata e allertata per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese, le più provate dalla crisi. La nave si trova ormeggiata da Augusta, può trasportare fino a 1.200 metri cubi d'acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. A Gela intanto si lavora per aumentare la portata della distribuzione idrica. In settimana dovrebbe essere operativo il primo dei due pozzi pantanelli che dovrebbe consentire di mettere progressivamente nella rete idrica cittadina fino a 15 litri al secondo in più, da integrare poi con i quantitativi previsti con il secondo pozzo operativo entro un mese. Lo ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano dopo il sopralluogo dei giorni scorsi. Siamo pronti, manca il campionamento ed il risultato delle analisi che uscirà fuori e con molta probabilità già tra giovedì e venerdì della prossima settimana altri 13-15 litri al secondo in più verranno immessi nella nostra rete idrica. Questo permetterà a Gela di avere l'acqua un giorno sì e un giorno no e quindi uscire da questa grave crisi che sta avvenendo veramente una città in ginocchio i nostri concittadini che sono veramente allo stesso. Il responsabile della protezione civile regionale Salvo Cocina intanto ha richiesto alleati ai comuni e ai gestori e ai consorsi di bonifica un report urgente e dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel piano in base al quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale stanziando i primi 20 milioni di euro. Oggi primo giorno di saldi in Sicilia, a Catania, sono molti i cittadini e i turisti per le vie dello shopping, a caccia degli affari e c'è chi in poche ore ha già speso 400 euro. Emanuela Corsi. Al via i saldi estivi in Sicilia dove secondo le stime saranno oltre 800 mila le famiglie che approfitteranno degli sconti per fare acquisti. Qui siamo a Catania dove già di mattina sono tanti i cittadini e i turisti in giro per le vie dello shopping, a caccia di affari. Siamo in fase di esplorazione. Ma state pensando di comprare? Pensiamo, pensiamo qualcosa. Cos'è che vi interessa di più? Beh in genere l'abbigliamento. Ma quali sono gli articoli più acquistati? Scarpe, la sua solita malattia e poi anche la mia. In questo momento delle scarpe? Qualche magliettina o qualche pantaloncino per l'estate. Secondo Confcommercio Sicilia ogni nucleo familiare spenderà in media circa 160 euro. Ma c'è anche chi non ha un budget o spende molto di più. Non ho un budget, non ho niente di preciso da acquistare, guardo, guardo un po'. Ho già speso 400 euro. Bene, e continueremo così? No, 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 spero di finire per oggi così, va bene. Ma solo per oggi? Per oggi basta, domani vedremo. Ah, quindi uno al giorno. Sì, sì, toglie il medico di torno. Qualche commerciante ha anticipato di alcuni giorni i saldi con delle vendite promozionali. Le associazioni dei consumatori però raccomandano di fare attenzione ad eventuali truffe. Il commerciante ha l'obbligo di indicare, oltre che la percentuale di sconto e il prezzo finale, anche il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni precedenti i saldi. Poi ricordate che avete diritto di provare gli indomendi, che la garanzia anche in periodo di saldi e di due anni, conservate gli scontrini e ricordatevi sempre di comprare originale perché vi conviene. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, il magistrato Marisa Scavo, il comandante della Guardia di Finanza di Catania, Antonino Raimondo, il comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla, il nostro direttore Michele Cucuzza e le colleghe Carmela Marino e Carla Previtera hanno ricevuto a Catania il premio Chimera d'Argento, che da 25 anni premia le eccellenze catanesi. Le spiagge della provincia Iblea, raggiungibili da tutti, è l'iniziativa di Mare Senza Frontiere, che grazie alla sinergia tra l'ASP e gli otto comuni sul mare, agevola l'accesso alla spiaggia e al mare ai disabili fisici e psichici. Veronica Barbarino. Un mare accessibile a tutti è un mare senza frontiere. Torna per il sesto anno consecutivo il progetto dell'ASP di Ragusa, con gli otto comuni della provincia Iblea, per garantire e migliorare l'accessibilità alle spiagge da parte dei disabili fisici e psichici. Il progetto mette a disposizione passarella d'ocche per raggiungere il gazebo in spiaggia e ripararsi dal sole, la presenza dei volontari qualificati dell'assistenza sociosanitaria, le sedie jobs per garantire un bagno nell'acqua trasparente del litorale Ibleo. È una cosa, questi gazebo, questo mare senza frontiere, meravigliosa per noi. Ci dà l'opportunità di andare a mare a noi che non ce la facciamo, c'è l'aiuto dell'osso che ci portano in acqua con la sedia. Il servizio sarà garantito gratuitamente tutti i giorni fino al 31 agosto, grazie alla presenza di due operatori per ognuna delle dieci postazioni individuate lungo gli arenili da Cate a Ispiga. Noi li aiuteremo a farsi il bagno a chi lo vuole fare, li intratteniamo, stiamo qua con loro e facciamo amicizia. Lo scorso anno 261 persone disabili hanno soffrito di questo servizio e anche quest'anno l'obiettivo è garantire pari opportunità e benessere diffuso. A Cireale apre il suo belvedere al cinema con la prima rassegna dedicata al grande, a un protagonista della cinematografia italiana, il regista palermitano Roberto Andò, che sarà presente ad Acireale dal 10 al 14 luglio, con lui molti degli attori dei suoi film, da Ficarra e Picone a Tony Servillo. L'Eva Spampinato. Le stranezze di Roberto Andò, da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello, è la prima rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Acireale e vedrà i grandi nomi del cinema italiano presenti in città dal 10 al 14 luglio, con proiezioni serali alla Villa Belvedere precedute da talk con i protagonisti. Un evento culturale importante di livello nazionale e anche internazionale, ci aspettiamo tanta gente e soprattutto del buon cinema e ringrazieremo appunto Roberto Andò per i film che ci ha donato e per quello che sta facendo non ultimo a Palermo in questo momento. Siamo contenti, all'interno del cartellone AC 2024 arricchiamo questo cartellone con una rassegna cinematografica, quindi una rassegna di livello culturale molto alta. La direzione artistica è curata da Mario Patenè, che per inaugurare la prima edizione della rassegna cinematografica di Acireale ha scelto Andò come esempio siciliano eccellente, un uomo dal grande spessore culturale che ha conosciuto e dialogato con i più grandi della letteratura, da Leonardo Sciascia a Umberto Eco fino ad Andrea Camilleri. Io sono molto felice di venire, sarò lì dal 12 al 14 e è un bel onore di poter partecipare a queste serate. Dal 10 al 14 luglio dunque Acireale ospiterà assieme al regista anche alcuni dei protagonisti dei suoi film, Ficarra e Picone, Toni Servillo, Donatella Finocchiaro, Valeria Solarino, Antonio Catania, Isabella Ragonese, David Coco. La Villa Bellini ha inaugurato la nuova stagione del Catania Summerfest. Tra i prossimi artisti in arrivo due rapper amatissimi dai giovani, Salmo e Nois Narcos, che ci raccontano da vicino cosa vedremo sul palco catanese il 12 luglio prossimo. Eva Spompinato. El Razor è il tour di Salmo e Nois Narcos, due facce diverse della stessa medaglia, fatta di rap hardcore che non ha bisogno di fronzoli o diversivi. Il primo tagliente è scenico, ma idomo, il secondo oscuro, denso. I due artisti saranno live a Catania il 12 luglio alla Villa Bellini e riporcorreranno i loro successi, oltre a presentare per la prima volta dal vivo i brani del loro joint album. E proprio della dimensione live del concerto parlano i due rapper. È un live puramente hip-hop, è proprio quella roba lì. È un live molto hardcore, bello pesante. Ci sono un po' di chicchette dentro, molto ficche, non possiamo svelare niente. Chi sarà live lo vedrà. Però devo dire che è molto esclusivo, è molto ficco. Ci sono delle cose che non ho mai visto nei live. Due caratteri opposti, ma complementari, forti del loro passato, della gavetta, ma anche del loro talento. Il disco è un manifesto di ciò che li caratterizza e li unisce. Un immaginario che attinge dalla rap, dall'hip-hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere. Entrambi ci abbiamo abbastanza ben conosciuti per essere performati live, quindi comunque la dimensione live, sia mia che sua, diciamo, che è la dimensione più forte dell'artista. Abbiamo scelto pure di mettere una componente teatrale, tra virgolette, però comunque la sana e vecchia scenografia fatta dalla mano d'opera di persone che la sanno fare. hanno fatto un lavoro della Madonna e sono uscite fuori delle cose incredibili. Ci fermiamo, tra poco il calciomercato. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calciomercato. Da domani Palermo in ritiro a Livigno. Accordo raggiunto per il difensore greco Nicolao, il terzino Anastasio sarà il prossimo acquisto del Catania. Karik ha un passo dal Trapani. Sergio Colosi. In casa Palermo definita l'operazione con lo Spezia, che porterà in rosa nero il difensore greco Nicolaou. Secondo rinforzo dopo il portiere Gomisse, mentre al club bianconero si trasferiranno l'attaccante Soleri, forse rimpiazzato da Pedro Mendes dell'Ascoli, e Aurelio in prestito. In attesa di capire il futuro di Brunori, allettato dal sogno di giocare in Serie A, il Palermo è la prima siciliana ad aprire a Livigno la serie dei ritiri estivi. Per il Catania attesa l'ufficialità del terzino sinistro Armando Anastasio, in arrivo dalla Casertana, dove la scorsa stagione ha disputato 39 partite, realizzando due reti. Per il 27enne napoletano, pronto un accordo pluriennale. Altri obiettivi rossazzurri, l'attaccante Varela, che la reggiana vorrebbe valutare in ritiro prima di privarsene, e il mediano De Rose, il pupillo di Toscano, che però dovrebbe ridurre le proprie richieste. In concorrenza con l'Avellino, piace il centrocampista Sunas del Catanzaro. Di pari passo alle novità, cammina il tema dello sfoltimento dell'organico, passaggio fondamentale in vista del ritiro di Assisi. Attivo il Trapani, che aggiunge il centrocampista sloveno, Nermin Karic, dal Benevento all'attaccante Canutè e ai prolungamenti contrattuali degli ex giallorossi Kragle e Sabatino e dell'albanese Balla. Sciotto continua a tenere in ansia i tifosi del Messina. Tratta la cessione del club ad un fondo americano ed ha mandato a Pavone di lavorare alle prime operazioni di mercato, nel segno di un'ormai tradizionale confusione estiva giallorossa. E per questa edizione del Tg Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.